buona giornata a tutti da nicola di utensileria online oggi vi presento le cuffie antirumore attive sperian modello electo queste a differenza delle comuni cuffie passivi antirumore hanno la particolarità di dare un alto comfort a chi le indossa combinato ad un sicuro livello di sicurezza l'alto comfort è dato dalla giusta pressione dei cuscinetti a livello auricolare alcuni modelli infatti imprimono un'alta pressione intorno ai padiglioni auricolari e dopo alcune ore di utilizzo provocano una sorta di intorpidimento della zona a cui sono a contatto provocando anche in alcuni casi dolore è importante infatti che la pressione esercitata sia giusta e soprattutto difformamente distribuita intorno all'orecchio siccome la distanza dalle orecchie variabili da una persona all'altra è necessario avere la possibilità di una precisa regolazione della lunghezza della scala della fascia temporale questa cuffia ha incorporato un sistema di regolazione a scatto con indicatori numerici impressi nella fascia che vi permette di regolare il giusto posizionamento nell'orecchio questo permetterà di avere un alto comfort e soprattutto una protezione efficiente generalmente le cuffie antirumori convenzionali vengono definite passive perché il livello di protezione è prestabilito quindi se le cuffie hanno per esempio 25 decibel di protezione acustica nel momento in cui le indosso avrò sempre quel livello di protezione questo sistema ottimo trova delle difficoltà nel momento in cui devo parlare o svolgere lavori per il quale c'è la necessità di comunicare con altri operatori sarà capitato sicuramente anche a voi che per dialogare con un collega avete tolto le protezioni acustiche gli studi fatti dagli enti di infortuni sul lavoro indicano che si possono provocare delle lesioni anche in pochi secondi gran parte delle patologie sono da collegarsi infatti all'esposizione ad alti livelli acustici degli operatori con queste cuffie attive invece dotate di microfoni esterni si possono regolare ed amplificare i suoni circostanti come ad esempio voci macchine segnali d'allarmi e insieme ascoltare la radio con emissioni limitate 82 decibel questo vi permetterà di poter dialogare senza togliere le protezioni acustiche rimanendo perciò protetti inoltre in quel lavoro e poi dove ci può essere un forte pericolo in caso di allarme l'operatore potrà essere sempre avvisato anche in zona rumore intenso spesso chi utilizza la protezione acustica di questo tipo svolge lavori per i quali difficile avere contatti con colleghi o compagni di lavoro in una giornata lavorativa di otto ore sicuramente rimanere in silenzio e praticamente da soli può risultare piuttosto alienante e di sicuro questo non porta ad avere un grande rendimento sul lavoro con questa cuffia è possibile ascoltare stazioni radio e magari fa scorrere più radevolmente il lavoro garantendo sempre la massima protezione queste cuffie potete trovarle sul nostro sito www.utenziariaonline.it un cordiale saluto